La torta di compleanno era costata 45 euro. Tagliarla e servirla in tavola invece è ben più del prezzo del dolce, 58 in totale, 4 euro e mezzo per ciascuno dei commensali. Una storia diventata virale sui social, beicolata a contatto e riscontrino che sta scatenando accese reazioni da parte degli utenti. È successo in un ristorante della provincia di Arezzo dove una famiglia aveva deciso di festeggiare un compleanno. La torta era stata acquistata in pasticceria, come d'accordi a fine cena i camerieri l'hanno servita a tavola, ma all'arrivo del conto l'amara sorpresa, quasi 60 euro in più per tagliare e sporzionare il dolce. Il tutto è stato così raccontato sui social da una giovane retina stupita dell'accaduto che su un gruppo Facebook di Arezzo ha mostrato lo scontrino Galeotto. Dal canto suo il locale avrebbe confermato che è tutto vero e che far pagare il taglio delle torte o di altri alimenti portati dai clienti è una regola dell'attività. Tuttavia il proprietario assente al momento dell'accaduto avrebbe ammesso che la soddisfazione dei clienti è la prima cosa nel commercio e che dunque i suoi dipendenti avrebbero potuto essere meno rigidi.